Ciao, sono Matteo Pagliocco, innanzitutto vi faccio i miei migliori auguri per un buon Natale e per un felice 2011. Questa sera sono qua con il mio amico Simone, siamo orfani nel nostro terzo complemento della gang Alex Polita, però stiamo divertendo un po' con i go-kart, così per divagarci un po' sotto le feste. Stasera ci scanneremo qui e il prossimo anno ci scanneremo in pista, perché anche io farò il capenal italiano Superbike con la Ducati del Team Barney. Faremo anche delle gare di go-kart del mondiale e quindi l'obiettivo è quello di far bene in Italia, poi magari quando c'è la possibilità di confrontarsi con i binghi del mondiale, lottare per magari delle top ten in Italia sarebbero perfette. E niente, è tutto qua, il programma prevede questo, adesso lascio la parola al mio amico Simone. Ciao, sono Simone Sartrelli, anch'io ho poi l'occasione per fare gli auguri di Buon Natale, di un felice 2011. Questa sera ho organizzato questa gareta per stare un po' insieme, peccato che manca il nostro amico Polita, ci stiamo divertendo e adesso facciamo questa gareta finale, poi dopo puntiamo tutto per il 2011 e io farò il capenal italiano Superbike con la Ducati. Aspettiamo marzo per i primi test e poi aspettiamo il 10 aprile la prima gara a Misano per batterci le impisse tutti e tre. Niente, dai, facciamo ancora gli auguri di Gottesimo e mi raccomando seguiteci. Sempre quella è la posizione. No, 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 no! È bella! È bella! È bella! È bella!